Questo è un gesto che non va naturalmente interpretato come un gesto contro il dottor Davigo, contro il singolo esponente. Noi siamo contro determinate idee che hanno frequentato tutti i suoi ultimi discorsi, che sono quelle di una inesistenza del diritto di difesa, di una impossibilità di esercitare il diritto di difesa. Noi quindi non siamo contro, noi siamo a favore dell'esercizio di tutti, a favore dell'esercizio dei più deboli, dei diritti dei più deboli, degli ultimi, dei deputati, delle vittime, a favore della corretta applicazione dei principi costituzionali che sono quelli che abbiamo esposto all'interno del cartello che abbiamo avuto in mano nel momento in cui siamo usciti dall'aula. Siamo per il diritto di difesa, siamo per un paese dove tutti possano avere quei diritti naturali e veder tutelati quei diritti naturali che la Costituzione ci assegna.